Hanno tirato di Fioretto, piuttosto che duellare a suon di mazzate, nel dibattito a due che si svolto al Tag Hotel, trasmesso in diretta da Fano TV, Giuseppe De Leo e Samuele Mascherin, gli unici due esponenti politici che fino ad oggi hanno formalizzato la loro candidatura a sindaco. De Leo orbita nell'area del centrodestra, mentre Mascherin fa parte dell'Alleanza di centrosinistra, ma nessuno ha ancora ricevuto l'avvallo delle rispettive coalizioni. A questo proposito, Mascherin attende ancora che il centrosinistra decida se fare o meno le primarie da lui richieste. De Leo, da parte sua, non è ancora riuscito a coagulare i partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Udc sul suo nome. Nel dibattito, quindi, si sono sentiti liberi di esprimere il proprio pensiero personale, spaziando sui temi dell'ambiente, della viabilità, dell'urbanistica, dell'economia, della sicurezza. La variante di Gimarra, necessaria per Mascherin, un grave errore per De Leo. La carenza dei parcheggi che ha spinto De Leo a dichiarare estendiamo l'isola pedonale a tutto il centro storico. L'arredo della città, siamo stati noi a rendere con il pincio e altri progetti la città più bella, ha dichiarato Mascherin. La pista dell'aeroporto va fatta, ha aggiunto De Leo. Siamo stati noi a svegliare la città dopo che negli anni precedenti la giunta di centrodestra l'aveva addormentata. 140 milioni di investimento non si trovano per strada, ha detto Mascherin. Ma sentiamo i diretti interessati. Che cosa è emerso che divide la sua candidatura da quella di De Leo? Ovviamente tante cose. La mia è una candidatura che si colloca ovviamente nel solco del centro sinistra, la sua in quella del centrodestra. Quindi c'è una visione per il futuro di questa città che è giustamente diversa e che è bene che i cittadini possano imparare a conoscere anche per fare una valutazione, una scelta consapevole alle elezioni amministrative del 2024. Chiaramente su alcuni temi in particolare, penso quelli del lavoro, quelli dell'ambiente, quelli dei servizi alla persona che sono uno degli elementi che in questi anni hanno caratterizzato positivamente il centro sinistra in questa città e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Seri, sono stati degli elementi ovviamente di verificazione e differenzazione importanti ed è giusto che sia così. Credo che sia stato un incontro utile anche per questo, per far emergere delle visioni di città differenti e soprattutto per animare un dibattito politico della nostra città che in questo momento è molto stagnante e ha invece la necessità di essere in qualche modo non solo riportato sui temi concreti che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini ma anche di animare un dibattito pubblico molto più orizzontale che rimetta migliaia di cittadini e cittadine nei prossimi mesi nelle condizioni di essere protagonisti di quello che sarà il percorso elettorale che ci porterà a giugno del 2024 e da questo punto di vista anche questa sera ho cercato ovviamente di dare il mio contributo perché i processi democratici e di partecipazione credo che siano un bene per tutti, non solo per un candidato ma per tutta la città. Adeleo ha molto da chiedere ancora al centrodestra ma anche Mascarina ha molto da chiedere al centrosinistra. Ma io fino ad oggi ho solo dato al centrosinistra per la verità e credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane le forze politiche del centrosinistra avranno una grande responsabilità quella di scegliere se coinvolgere migliaia di cittadini e cittadini in un percorso che non solo sia di partecipazione ma sia anche di mobilitazione perché io rimango convinto che il centrosinistra per vincere ha bisogno dell'entusiasmo, della passione, dell'energia di migliaia di cittadini che fortunatamente ci sono e sono pronti a sostenere il centrosinistra, le donne e le uomini che si candideranno a guidarlo. Solo li dobbiamo coinvolgere, gli dobbiamo dare voce e gli dobbiamo dare la possibilità di scegliere. Per quello io continuo a ripetere che le primarie non solo sono uno strumento giusto perché permette ai cittadini di scegliere in maniera libera, trasparente e senza condizionamenti ma sono anche una chiave per la vittoria del centrosinistra in questa città. Come ha trovato il suo avversario e come si sente in questo momento? Io sto molto bene, il mio avversario si difende, cerca di fare la sua parte ovviamente perché comunque politicamente si prepara, ha fatto sempre questo nella sua vita e quindi è il suo lavoro. Mi sento bene perché comunque per la prima volta si è discusso apertamente senza nascondersi dietro un dito di problemi della città, cioè si entra sul vivo, c'è un dibattito, tra sei mesi si vota e quindi è giusto che si inizia a parlare delle cose che non vanno, delle cose che si vorrebbe fare nel prossimo futuro. Quali sono però le prospettive per una tornata amministrativa diversa? Allora questo dipenderà anche da un sistema di alleanze che ancora è in fieri, perché a parte le battute io rappresento un'area civica nel perimetro centrodestra ma una convergenza ancora programmatica con tutta l'area del centrodestra ancora non è stata registrata. Questo è onore della verità. Per quanto riguarda il futuro è chiaro che noi abbiamo come liste civiche delle idee abbastanza chiare come governare questa città per i prossimi anni, innanzitutto avendo una visione complessiva di sviluppo e avendo anche dei rapporti fecondi con le istituzioni superiori, con la regione, con lo Stato, con i ministeri e quindi sotto questo aspetto noi dobbiamo fare un salto di qualità, cioè questa nostra cittadina deve diventare una città vera, deve cominciare a rispondere alle domande che sempre più forti arrivano dalla società, la povertà, la casa che non c'è, i problemi del lavoro, l'occupazione giovanile, lo sviluppo, lo sviluppo economico è fondamentale, crea ricchezza. Il ritardo con cui il centrodestra cerca di coagulare un programma e quindi scegliere un candidato secondo lei penalizzante per lo stesso centrodestra? Quando ci sono dei partiti che devono sistemare alcune pedine un po' qua e là sul territorio perché occorrono degli accordi politici tra queste forze politiche è chiaro che dei ritardi si possono registrare. Io mi auguro e lo spero e lavorerò fino in fondo per far sì che quest'area civica si possa collegare in modo organico nel perimetro di un'area del centrodestra per vincere le elezioni. Grazie a tutti.